il guarda che abbiamo qui pensavo che noi fossimo speciali gente questo è bagman 愛 hangman ma è uguale che genere di missione ognuno di noi è il meglio che c'è che hanno preso per insegnarci qualcosa Capitano di bascello Pete Maverick Mitchell Le parlerò apertamente Lei non è la mia prima scelta È qui indietro richiesta dell'ammiraglio Kasansky Anche detto Iceman Secondo lui lei ha ancora qualcosa da dare alla marina Che cosa non lo immagino Con tutto il rispetto signore non sono un insegnante Non vorrei creare aspettative Buongiorno avviatori È il capitano che vi parla E si parte Ci siamo Meno tre Due Uno Andiamo in combattimento A un livello che nessun pilota ha mai visto Nemmeno lui Se lassù pensi sei morto Credimi Mio padre credeva in lei Non commetterò lo stesso errore Qualcuno non tornerà vivo Sono i tuoi piloti Se gli accadesse qualcosa Non te lo perdoneresti mai Non si torna più indietro Andiamo Oddio Che c'è? Non ti diverti? No Non i tuoi piloti Non ti diverti? Tu Strom Non ti diverti Grazie a tutti.